buongiorno amici eccoci di nuovo siamo stati in vacanza per tre quattro giorni siamo di nuovo a colombacci la giornata permette bene c'è un bel traccheggio di colombacci vediamo come va qualche colombaccio è uscito qualche corvo anche sono molto sospettosi abbiamo cambiato un po' la predisposizione degli stampi e vediamo cosa succede adesso adesso si è fermato un poco aspettiamo mangiamo qualcosa ci aggiorniamo a dopo grazie grazie grazie